E magnate questa cicoria Ciao ragazzoni sono Crax Bentornati nel canale Quest'oggi come promesso siamo insieme a Nemos Twitch is back E' tornato il signor Nemosetti insieme a questo oggi a Dread Oggi abbiamo un altro pro player Grande Dread da 12.000 coppe Tralasciando il fatto che Nemos Ha toccato Non so se è il record Nemos 12.378 Cioè voglio l'applauso E' il tuo record? Eh si fratellone Record però 12.394 Ho fatto un droppino E quindi oggi si tropperemo No non è vero Oggi non si troppa Oggi non si troppa Perché ragazzi giocheremo in Robo Assalto Siamo super on fire Dato che hanno cambiato la mappa In realtà no Siamo veramente messi malissimo Perché non ci sono bug Per il momento Sembra non esserci nessun bug Io metterò un po' di bigliettozzi Mi gioco i biglietti Perché tra l'altro Arriverà il chest opening per Carletto Ragazzi devo fare un sacco di cassette Mi raccomando Un bel pollicione in su Quanti pollicioni signor Nemos Per questo episodio Allora fammo 20.000 dai 20.000 si può fare Anche perché ragazzi Diciamo di questo video Vi parlerò di una cosa Molto importante Ovvero il prossimo aggiornamento No è allora 30.000 30.000 regà L'ha detto Nemos Mi raccomando Iscriviti 30.000 Rax gioca col maxato Oh my god Nemos l'ha lanciata Contiamo su due Grazie per il supporto Fondamentale l'iscrizione al mio canale Per rimanere sempre aggiornati Vi darò sempre aggiornati Su quello che riguarda l'aggiornamento Iscrizione al canale Nemos Trovate il link in descrizione Primo link Mi raccomando passateci Nemos sta per arrivare a 50k Fratellone Mamma mia fratello 50k Mezzo 100.000 Poi ti arriva il silver button Ma sei pronto? Silver button al 100.000 100.000 Ci vorrà un pochino dai Però sebbene 500 Che ci vuole Ma che ci vuole Che ci vuole Allora ragazzi Parliamo al volo di questi leak Proprio velocissimi Ringrazio anche il mio abbonato boss pro Che mi ha permesso di ricevere ste robe Io non so come ha fatto a prendere i ragazzi Perché Sembrano totalmente veriteri Però ripeto Sono leaks Non è roba ufficiale È roba un po' campata in aria Per quanto riguarda il prossimo aggiornamento Si prospetta un aggiornamento Signor Nemos Per il 28 marzo Con un delay Di Carl Carl non uscirà più a marzo A metà marzo Quindi Credo la prossima settimana Ma direttamente il 28 marzo Con l'uscita di questo super aggiornamento Io non riesco a girare l'immagine Un attimo Forse però eh Forse 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 Ripeto non è nulla di ufficiale Allora 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 Nuova modalità Nuova game mode 5v5 showdown Spam Illegale Ma vi rendete conto 5 contro 5 Ora non credo ci sia un respawn Nel senso una volta morto 6 out Altrimenti durano 10 minuti le partite Sa che roba Potrebbe essere interessante Io Nemos Se ti consiglio già di pensare al team Che team possiamo fare 5v5 Non lo so Mo ce penso Mo ce penso Cioè immagina tutti quanti in chiamata Tutti in chiamata Contro gli altri 5 Che stanno magari in un'altra chiamata Ma c'è È un qualcosa di devastante Ma tu immagina anche solo le live Su sta modalità Cioè Questa è bellissima Io spero che venga droppata Perché letteralmente OP Nuove skin E tenetevi pronti Però queste ve le leggo Addirittura in italiano Le ho addirittura tradotte Sempre grazie al senior boss Eccole qua ragazzi Abbiamo Penny Moschettiere Ripresa probabilmente da Clash Royale Leon Coniglio Piper Sposa Con l'abito bianco Bellissima Pasqua Mike Che tirerà probabilmente le uova Mi sento male Sgancia cesteo Raga Vi dico gli ultimi due Mega primo Non so se lo faranno tipo Bo Steel e Robo Non credo No ma aspetta Ma non è che è tipo Mega knight Potrebbe essere Ah potrebbe essere cavaliere Ma sai come mi sento male Non ci credo Però io sparo la bomba Lo sto dicendo ragazzi Nita tigre Mamma mia Gli spara il tigrotto gigante Io non ci credo Non ci credo Sì guarda sto quasi più in hype Per la skin Royale Ci vogliamo subito Erne Mossetti Subito Sulla Brawl TV Ovviamente i migliori replay Andranno lì Molto molto simpatici Si potranno vedere Tutti quanti i replay Di tutte quante le partite Di tutti quanti i player Top Per le battaglie Per i momenti salienti Un costo La star power Negozi Da 2000 A 1650 Una marea di nuove mappe Ovunque Su tutte quante le modalità Mi sto perdendo una cosa Per quanto riguarda La modalità big boss Ora le torrette E i pet Dei vari brawler Quelli più forti Da boss Tipo Jesse Tipo Pam Tipo Nita Gli viene ridotta La vita del 40% Quindi diventeranno Un po' meno boss Un po' meno big boss Questo ragazzi Per quanto riguarda Il prossimo aggiornamento Io vi ho droppato Stemine Ringrazio ancora boss Nemos Che ne pensi Cioè Di che stiamo parlando Spero sia tutto vero Spero sia tutto vero Innanzitutto E sì No Sarebbe un ottimo aggiornamento Devastante L'unica cosa negativa Ecco che bisogna aspettare Fino al 28 marzo Ma se rilasciano una cosa del genere Ragazzi Ve lo dico Io shoppo tutto Cioè Le skin sono pazzesche Tutte quattro Ha detto Io voglio un Grax maxato E sgancio Dai Dai No sto scherzando Però le skin Le shoppo tutte Mi raccomando ragazzi Like per questi Super leak Detto questo Vamos Nemos Proviamo questa modalità Prontissimi Ma sai che ti dico Ho molta fiducia in te Quindi metto solo un ticket Ah io ti ringrazio Grazie di cuore Guarda veramente Mi lusinghi Però io faccio il folle Io ne metto 10 Ma sto vero Stai facendo un errore fratello Io ne ho messi 10 fratello Li perdiamo tutti Non mi interessa Tanto dobbiamo caricare il chest opening Quindi Ole Ondata 1 Ondata 1 Già passata ok Siamo partiti ragazzoli Io ho seriamente paura Eeeh Guardali che carini Ole Una l'abbiamo fatta fuori Va bene L'obiettivo del video E' stato raggiunto E' stato completato Ok finita Possiamo staccarlo Ciao ragazzi Ci vediamo nel prossimo video La cosa positiva E' che voi siete maxati Quindi ottima cosa Ed inoltre Io ho il mio brawler più forte Quindi Ci può stare Ci può stare Ma si si Signor Dread E' fortissimo Va a fare touchdown Dread c'è una pappa illegale Maxatissima Che cura Anzi che cura anche Mentre spari Tu non hai mai visto l'orso di Dread Gli orsi di Dread Sono qualcosa di devastante Con l'orso di Dread Eh immaginati la tigre Immaginati la tigre La tigre dei Dread Sto a fare tutto io Però che volete svegliare Secondo me ragazzi Vi ho fatto un errore A non mettere i biglietti Poi magari beccherò il cheat Nei commenti Però io vi ho fatto un errore Tra cinque secondi Tu impiangerai Di aver messo dieci tigre Ma io ne ho messi due Hai visto Avevo messo uno Dread ha più fiducia di me Grazie Dread Ma Dread Però tu non ti sei imparato Cioè non ti ricordi Dog Friend Che ci diceva Come si mettono E torrette Gli devi dire in testa Ai robot Oh 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 Ok raga Mo ci divertimo Questo si chiama Giancarlone Mo ci divertimo Mo ci divertimo Vabbè Ma come è andato giù Ma non esiste più Ma che è sta roba Dai Ma neanche il tempo Ma ciao Oh 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 Aspetta un attimo Vieni qua Prendi un po' di cura Gigi No mi curi te Grax Si 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 la curettata Il signor Dread Dai No no Curami te Lancia me la melanzana Per il piacere Ecco tra Beccata mezza Ole Curadissimo il signor Nemos Ok Meno male va Togliamo sta roba De Star Wars Fatto fuori Si no Non si possono vedere Ma che robot So Brutti 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 Comunque se non erro Il tempo è rimasto Sempre lo stesso Cioè a sei minuti e mezzo Si prende il massimo un bottino Vero Si ma non ci arriveremo mai Tu dici Io so fiducioso Sì sì ma fra Sono proprio sicuro Anche se Dynamark qui è fortissimo Vedrai che Dynamark È l'asso nella manica Anche perché lo sai qual è il problema Una volta che aprono è finita Fermo E tu gli spari Però questi non si fermano Ma che sei Deo ma vai a fermare Un secondo Ole Ondata numero 12 2 minuti e 20 10 biglietti Raga ci ho messo 10 biglietti 10 biglietti Infatti sei un folle Guarda qua Guarda qua Guarda qua Guarda qua Che robetta Guarda questi mo si fermano E tu gli diri cose Ma è bello Io mi diverto Eh sì perché Se io mi ci avvicino Loro si fermano a sparo a me Quindi tu neanche devi stare Ok Rino Lovetti kinder Raga Belli Lovetti kinder Ok a posto Tanti auguri Questo è il secondo Il terzo è mostruoso Però questo in teoria è fattibile Se ce la giochiamo bene Beccate il bombone fratello Sei pronto Vai fratellone Eppi adesso Da città Sì sì Mangialo vivo Mangialo vivo Vieni per qua Vieni per qua Oh Johnny Carlo Dagli che va giù Dagli che va giù Beccate il bombone fratello Melazzano E via il secondo massacrato Pulido Adesso però un po' aperta È un po' aperta La sera E questi Questi pungono Attenzione all'ovetti kinder Te lo sei portato via Loll Sì sì Bello il signor Nemos Guardalo Com'è arrabbiato tutto rosso Sì no Ultimamente amo Bull Infatti L'abbiamo fatto a 600 In una sera È stato fantastico Sta spara sul muro Si è buggato Che bello Occhio a questo matto Oh my god Mi ha tolto 1.500 Oh my god Che sei l'urica Tira questo Che te spari Ma te fermi Siamo a 3 minuti e 5 Metti la torretta Alla destra Altro lato Occhio a sto matto Occhio a quest'altro Pulido Oh Arriva McTyson Ma dove va Ma dove va Ti è Mangiate ste pallotto Lei ti è Se la mangi Il signor Dread Non muoia per piacere Lo dico Guardi Mi faccia questo favore Signor Dread Altro McTyson Anzi questo è Mohamed Ali No Mohamed Ali È il bossone finale Questo è Oh my god Quanti so Oh my Eh vabbè Ciao No No Sono Manucci Questo è la fine Non riusciamo a tirare Vabbè L'abbiamo tolti Ma che Ma che È questo Che non tireremo mai giù Vabbè Se ce lo portiamo fuori Si può fare No vabbè Vabbè Fermatelo questo Regale Però 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 sta a metà vita Buono Buono No no Stavo a portar via Quindi Oh mio Bombone Regà Ah Quelli d'oro Togliamo Oh Dai Regà Oh regà È tutto regolare È tutto regolare Signor Grax Attenzione Fermi tutti Attenzione Ma perché non avete messi dieci Perché non avete messi dieci Eh ma non lo so Guarda Nutrivo una poca fiducia Verso le torrette Attenzione questo No 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 Questo Grax È sottovalutato No no Ma te pare Ma te pare Che è sottovaluto Grax Attenzione Occhio Ma ne arriva un altro Robottone No tre erano Eh fra Io penso Dove riparire Tra poco l'altro Ah ok Quindi mi sento male No vabbè Stai già cantando vittoria Ma Però vabbè Un bel tempo Dai Occhio il robottino Che memore Il Nemos qua Ma che è sta storia Dai il Nemos Ritorna Oh my god Quanto sopporti No regà Ti ho detto i kind Mi sono morto Regà Lo metto kinder Va bene Dai 5 minuti Non si fa così Non si fa così Va bene Arriva a 6 Arriva a 6 Arriva a 6 No Regà Un bel tempo E un attimo Non ci siamo riusciti Io mi reputo molto soddisfatto Mi reputo molto soddisfatto Guarda io Sono molto soddisfatto Di aver messo un biglietto Vabbè Comunque mi sono preso Ve lo butto là Gettono in stella Per 10 3 cassette pulite 300 gettoncini Allora lo sai che c'è Andiamo a far video mio Io ce ne butto 20 Attenzione ragazzi Infatti Probabilmente quando uscirà questo episodio Uscirà pure sul canale Nemos Mi raccomando passate Ricordo ragazzi Un bel pollice all'insù Commentini Fatemi sapere cosa hanno iniziato Di questi leak Illegali Mi sento Mario Non vedo l'ora Di beccare queste super skin Io ringrazio Tred Un bacione Grazie Tred per il supporto Grazie Ci becchiamo Al prossimo episodio ragazzi Probabilmente Clash of Clans Ciao ragazzi Buona domenica Ciao 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 belli Ciao